Musica 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 Abbiamo fame di tenerezza, in un mondo dove tutto abbonda, siamo poveri di questo sentimento, che è come una carezza per il nostro cuore, abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene. La tenerezza è un amore disinteressato e generoso che non chiede nient'altro che essere compreso e apprezzato. Grazie a tutti.